Welcome boys and girls e benvenuti nel primo video di Rocket League assieme al grandissimo Darth Trimitimus Oggi faremo oro 1 in 2 vs 2 Sempre se qualcuno non rovina tutto Il signore Darth Trimitimus ne sa qualcosa Para, para a tutti i costi, bravo Para, para, para Lasciala, lasciala, bravo Oui Guardalo, guardalo, guardalo Questo Ah no, non importa la nostra Si Si, bravo Darth Trimitimus è il grandissimo Ma se l'ho parata io qui Che se no avrebbe fatto gol Iscrivetevi a Brambian Beh vabbè Iscrivetevi tutti Poi vi lascio il link Vabbè Inizierà a fare video il Darth Trimitimus Si Che scherlo Guarda come è entrata la palla Il grandissimo Darth Trimitimus Parteciperà come creator su Youtube E vi consiglio di iscrivervi Dopo vi lascio il link in descrizione Anche se ancora non c'è nella pagina Non ha nulla, è povero Bravo Prendela, prendela Ui Si Ok ma che provata signore Guarda com'è la mia macchina cosa ha fatto, guarda Sì Ho fatto proprio I believe I can fly Quanti bambini fanno Buongiorno Buongiorno Si Si Nooo Nooo Quando i bambini fanno Oh 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 San Tappolino Oddio, non hai fatto nulla, bravo! Mi raccomedo! No, 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 no! Ho fatto pure gol! No, sì! Stai dietro, stai dietro! Bravo che non mi ascolti No, che skill che aveva questo! Ma non come Tutankhamun, Oddio! no 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 infine ora finiscono si una che felica ha fatto il tipo Oddio Oddio No Si no 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 Ti prego non parare No No Come Si Te la passo Te la passo Oddio Che Che grossi No questa è stata la tattica migliore Guarda io pum E tu pum No No Si tira 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 a tutti i costi Oh Lascia lascia bravo Ma meglio Ti volevi No 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 Tira 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 No Che sfinga Non dobbiamo farci segnare da questi Che questi sono scarsi come la morte No Vieni via Eh già Lasciamela Lasciamela Oh Bravo Hai fatto più punteggio di me Eh no Si No aspetta Perché argento Si promozione Ora 1 Si Si Spero che questo video vi sia piaciuto Se cosa è stato Lasciate un commento e un mi piace E Noi ci vediamo in un prossimo video Hi boys and girls Is 8 Mi D Musica E 2 9 2